La parola di oggi è bustrofedico. È un aggettivo che definisce una scrittura che va alternativamente da destra a sinistra e da sinistra a destra con un andamento che ricorda quello dei solchi tracciati dall'aratro in un campo. L'etimologia della parola infatti fa riferimento al greco antico bustrofedon, composto da bus che vuol dire bue e strefein che vuol dire girare e invertire. Alcune iscrizioni antiche avevano infatti le linee che seguivano l'andamento alterno dei buoi nei lavori d'arratura, che arrivati in fondo al campo si giravano e tracciavano il solco successivo andando in senso opposto. Una caratteristica della scrittura bustrofedica, che scomparve quasi del tutto attorno al VI secolo a.C., è quella di ruotare anche la forma delle lettere, che hanno quindi forme speculari a seconda che il senso proceda da destra verso sinistra o viceversa. Per chiarire meglio, una lettera B maiuscola aveva le gobbe verso destra nella riga con andamento sinistra-destra e le gobbe verso sinistra nella riga con andamento da destra a sinistra. Un esempio vicino a noi di questo tipo di scrittura è quella del cosiddetto Cippo del Foro, la più antica iscrizione monumentale latina, incisa sulle quattro facce di un cippo di tufo rinvenuto nel 1899 nel Foro Romano, al di sotto di una pavimentazione quadrangolare di marmo nero, che è da identificare con il Lapis Niger, che secondo gli autori antichi indicava un luogo funesto collegato alla morte di Romolo. La scrittura è bustrofedica, inalfabeto arcaico e di probabile derivazione greco-etrusca. La pietra è molto rovinata e in gran parte illegibile. Tracce di questo tipo di scrittura sono state ritrovate in molti luoghi anche lontani tra di loro, a Creta, nel nord dell'India, in alcune zone del Perù, in Armenia e perfino nell'isola di Pasqua. Qui tale scrittura, detta Rongorongo, è stata trovata su tavolette di legno rinvenute in molti casi nei pressi dei Moai e che al momento nessuno è ancora riuscito a decifrare completamente. Al giorno d'oggi sono pochi i casi di scrittura ancora completamente liberi di procedere in un senso o in un altro e di invertire di conseguenza la forma del lettere. Un caso è quello della scrittura dei Tuareg, peraltro ormai in disuso. Oltre al verso di scrittura, questa parola può anche indicare l'andamento di un percorso attraverso le caselle di un tavolo da gioco, oppure l'ordine in cui possono essere posate delle piastrelle, oppure l'attività del bagnino che setaccia la sabbia dello stabilimento balneare.